Tra cinque minuti iniziamo. Vi chiedo un attimo di pazienza, perché hanno telefonato, potremmo un minuto arriviamo e allora hanno perso treni, treni in ritardo, scioperi, burro, così, disastri universali. Sono contento perché oggi penso che sia un'altra grande, direi un apice di qualcosa di straordinario, di un sogno che è iniziato 25 anni fa e poi lo vedrete e lo vivremo domani assieme. Il fatto di avere anche tanti professionisti, tanti amici che hanno seguito questo percorso da anni. Ringrazio il professor Iori, è venuto dal Brasile direttamente, è arrivato prima lui che gli altri. Giuseppe quanto ci hai messo a arrivare? Io sono partito ieri a mezzogiorno e sono arrivato stanotte a lunedì e mezzo dalla Sicilia. Quindi capite, un po' di pazienza. Se magari facciamo, iniziamo con un quarto d'ora, venti minuti in ritardo, dai, state tranquilli. Di solito non lo faccio mai, perché puntuali 9-10 massimo iniziamo, però in queste situazioni lo facciamo volentieri, tanto poi le relazioni sono tutte da dieci minuti, quindi quarto d'ora, no Massimo? Di più, volevi di meno, 5 minuti, 12 minuti. Pensai, bellissimo, chi è che è stato mai al Sime, al Sime a Roma? L'ultima volta mi hanno invitato come relatore, arriva il programma, siamo onorati e di averla come relatore, onorati, poi io non so nessuno. 12 minuti. E che ti dico in 12 minuti? Che 12 minuti? Buongiorno. Comunque, poi invece si dicono tante cose, ho scoperto che in 12 minuti si dicono veramente tante cose. Però ho detto, datemi un quarto d'ora. No, no, 12 minuti. C'era lì il time con i moderatori, il fucile puntato, bazzucca. Suonava questa cosa. E quindi oggi 15 minuti li diamo. Non 12, ma 15. Bartolo. No, no. Bartolo. Beh, quindi abbiamo veramente qualcosa dei relatori straordinari, qualcosa di meraviglioso. Abbiamo costruito questo progetto con veramente tanto entusiasmo, passione, perseveranza contro tutto e di più, anche non solo i mulini a vento, ma qualcosa di molto più controcorrente. Perché comunque, quando parliamo di scienza, poi la scienza non è mai esatta per nessuno, ogni giorno si scoprono cose nuove. E soprattutto con l'era della consapevolezza della realtà, noi dobbiamo fare i conti con una realtà. La realtà è che, come mi diceva il grande presidente del COS, dei medici di famiglia, mi diceva, vedi Giorgio, noi nonostante tutto quello che facciamo, abbiamo 40% di malati cronici. 24 milioni di malati cronici in Italia. Non so se avete letto l'ultima notizia, l'ho messa anche su vari social, eccetera. Sono morti recentemente, ogni anno muoiono 275.000 bambini. 275.000 bambini. Allora dico, possiamo unire le forze nel senso di fare la medicina, giustamente, della cura, degli indagini che facciamo da sempre, ma anche una medicina che possa essere integrata per una prevenzione pre-primaria delle malattie per evitare la strage degli innocenti? Sì o no? Possiamo farla insieme. Cioè capire se c'è una strada, non esatta, perfetta, o chi c'ha ragione, perché qui non è un problema di avere ragione. Il problema è aiutare le persone a vivere meglio, evitare la malattia. E quindi se abbiamo qualcosa che oggi ci permette, e la clinica che stiamo avendo è straordinaria, ve l'assicuro, lo vedrete durante... Se abbiamo veramente l'opportunità di aiutare le persone a vivere meglio e a capire meglio cosa accade a livello cellulare, e qui ci sono scienziati che sanno come funzionano le cellule, no? Come funzionano i sistemi, da dove partono i reali rischi congeniti e da dove partono le costituzioni, tutto, la medicina è integrata, meravigliosa, straordinaria. Ho avuto l'onore di avere un grande maestro, come sapete, Sergio Stagnaro. Grandi maestri che hanno costruito, mi hanno aiutato con la ricerca, università, no? Perché poi bisogna fare anche quella. Però penso che la clinica sia qualcosa di importante. E allora se un medico usa uno strumento, che può essere la tecnologia S-Drive come qualsiasi altro strumento, e ha dei risultati, prima e dopo, invece che dire non è vero, ah no, ma queste sono cose che sono casi aneddoti, ma quando i casi clinici sono centinaia, prima e dopo, un medico dovrebbe dire, ma scusa, ma fammi capire come funziona, ma tu come fai? Penso che sia importante, perché abbiamo sempre fatto così, abbiamo iniziato così. Perché allora tre medici, penso, devono finire di chiamare il suo collega e dire, ma tu come la curi questa? Perché, sì o no? E poi si dicono, ma io uso questo prodotto, io uso questo farmaco. Eh no, allora, lì non è scienza quella, giusto? Allora penso che bisogna ritornare alla medicina dell'amore, quella della responsabilità, quella della consapevolezza, quello dell'unire le forze per aiutare le persone a vivere meglio. Io penso che questo possa veramente fare una grande differenza. E allora, prima di passare la parola alla professoressa, grazia, Feno, Pintori, se no, me le dà, dell'Università di Sassari, che ringrazio di cuore, fatele un applauso, perché è meraviglioso. Ringrazio veramente tutti voi per essere qua, ringrazio veramente, siamo tanti, nonostante i problemi che ci sono nel viaggio. Voglio condividere con voi una storia che farò vedere anche domani. E poi passo la parola per l'introduzione.